Buongiorno a tutti, io Presidente mi chiedo da... Posso? Presidente, anzi, non mi deve ascoltare lei perché è stata fatta una chiara richiesta da parte della Consigliata del russo relativamente al ritiro di Gatti, che adesso non mi conto che ha già annunciato nel suo intervento, sono una decina qua, quindi vorrei che lei si esprimesse nel mento, non è stato chiesto di interpretare il Consiglio Comunale, ma lei è stata rimandata la responsabilità di decidere per merito. Grazie. Grazie. Allora, come risulta dalle opposizioni, diciamo che è stata una mancanza di chiarezza su questi primi cinque capi, noi penso che... Allora, questa è una cosa che ormai dobbiamo vedere anche, perché questi primi cinque capi, le donne del giornino, vengono indirati perché è registrato un'immunicazione corretta nella documentazione coso-professione. Allora, mettiamo le voti che il ritiro viene di cinque capi. Allora, allora chiediamo, chiediamo con una sospensione di cinque minuti per fare un po' chiarezza in terra della maggioranza la decisione che ha avuto, vai a parola del Consiglio legnale. Per precisare, Presidente, chiediamo di ritirare i capi da primo a cinque e le proposte numero 42, 43, 44 e 46. Grazie. Grazie.